E' giallo a Pompei per la scomparsa dell'affresco della Dea Artemide dalla Domus di Nettuno. E scattano le indagini per ritrovare lo stucco affrescato dall'inestimabile valore. La scoperta della scomparsa fatta da uno degli addetti alla sorveglianza del sito archeologico risale ad una settimana fa. Solo ieri però la notizia è trapelata fuori dalle mura dell'antica Pompei. La data certa del furto però ancora non è stata stabilita. L'ambiente infatti è fuori dal circuito di visita e non sempre i custodio e i tecnici della soprintendenza entrano nelle Domus chiuse. I carabinieri stanno svolgendo indagini a tutto campo per ritrovare l'affresco trafugato dalla Reggio Sesto, Insula 5, Civico 3, per identificare il responsabile. Le telecamere del sistema di videosorveglianza però non coprono via Consolare, l'area tra Porto Ercolano e Via delle Terme in cui si sarebbe consumato il furto. Difficile dunque vedere il volto del colpevole o dei colpevoli dalle immagini registrate dalla sala regia. La scomparsa dell'opera d'arte è un vero e proprio giallo. In un primo momento si è pensato che la parte dell'affresco mancante di Artemide, la dea seduta ai piedi di Apollo, potesse essere nel laboratorio di restauro della soprintendenza, vista l'accurata tecnica utilizzata per staccare l'affresco dalla parete. Partita così la ricerca interna, gli investigatori però non hanno trovato alcun riscontro positivo in tal senso, anche perché la casa di Nettuno non è interessata da lavori di restauro. Accertato dunque che Artemide è stata trafugata da mani esterne e non si trova in alcun luogo o laboratorio interno alla soprintendenza di Pompei, Ercolano e Stabia. L'inchiesta dunque si è stesa all'esterno del sito, in particolare nel campo del mercato nero delle opere d'arte.